Un morto e tre feriti, di cui uno grave. Questo è il tragico bilancio dell'incidente avvenuto ieri sera nel bacino galleggiante mediterraneo di Livorno. Stavano effettuando verifiche sulla tenuta dello scafo dell'Urania, una nave per la ricerca oceanografica del CNR, che a giorni sarebbe stata rimessa in galleggiamento. Sono da poco passate le 19. Improvvisamente, forse per il cedimento di un'attacca di sostegno del bacino, la nave inizia a sbandare. 61 metri di lunghezza per 11 di larghezza e 1000 tonnellate di stazza si piegano verso sinistra. Materiali pesanti e suppellettili scivolano, investendo quattro operai. Fusti e barili iniziano a perdere una sostanza oleosa, rendendo ancora più difficile la fuga. È il caos. Gabriele Petrone, elettricista napoletano di 38 anni, non ce la fa, rimane incastrato. Più fortunato, crocifisso incorvato, 45 anni, di gela, anche lui viene schiacciato ma riesce a liberarsi. Operato nella notte, le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri due se la cavano con ferite più lievi, come altri marittimi a bordo ma non coinvolti direttamente. I soccorsi scattano subito, sia via terra che via mare. I primi a salire sulla nave, sempre più inclinata, con i tiranti allo stremo che rischiano di rompersi, sono i vigili del fuoco e il personale medico che prestano i primi soccorsi ai feriti riuniti a poppa. L'operazione è complessa, il rischio altissimo. Vengono però salvati tutti, tranne Petrone, che recuperato a fatica, muore sulla banchina del porto. L'inchiesta è già aperta. Un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati, aggravato dalle lesioni agli altri marittimi, è stato aperto dalla procura di Livorno. Nave e bacino sono sotto sequestro ma occorrerà andare là sotto, esaminare lo scafo per capire l'esatta dinamica dei fatti e ci vorrà ancora qualche giorno. I lavoratori del cantiere Benetti hanno indetto una giornata di sciopero stamani. Hanno partecipato tutti quelli dei cantieri dell'Indotto, circa 700 persone nello sconforto generale. Il sindaco Nogarin ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali di Petrone, sul cui corpo sarà disposta l'autopsia.